Il titolo del mio messaggio questa mattina è Quanto sei disposto? Dillo alla persona a fianco a te, quanto sei disposto? Non sarà uno di quei messaggi che vi accarezzano? Però servono anche quelli Noi possiamo ringraziare Dio perché Abbiamo dei pastori senior che hanno ricevuto questa visione Abbiamo questa, hanno questa visione, l'hanno trasferita Stanno cercando di trasferirla a quante più persone Perché una visione senza persone che sono pronte ad attuarla Resta solo una buona idea Dio dà una visione a un uomo, a una donna Ma se non ci sono persone che sono disposte ad abbracciare quella visione Non sono disposte a servire in quella visione A camminare per quella visione Resterà solo una bellissima idea Guardate cosa dice Proverbi Per quanto riguarda la visione Proverbi 29 verso 18 dice Quando non c'è visione il popolo perisce La Bibbia ci incoraggia ad avere Noi dobbiamo avere una visione Noi abbiamo una visione Noi abbiamo una visione Non facciamo le cose tante per farle Come viene la domenica Speriamo che Dio ci dà No, no, no Noi facciamo tutto per una visione Abbiamo una visione Siete con me? Abbiamo una visione Guardate questo verso in un'altra versione Come lo dice Perché sapete La parola visione usata nella Bibbia E ci ha riso Che non ha solo questo significato di visione Ha più di un significato E prima abbiamo Nel primo verso abbiamo letto Quando non c'è visione il popolo perisce Guardate come lo traduce questa versione Dice Dove non c'è rivelazione Il popolo è senza freno Un'altra traduzione per la parola visione Ci ha riso è rivelazione Guardate The Message come dice Se le persone non riescono a vedere Cosa Dio sta facendo Inciamperanno su loro stessi La traduzione per la parola visione È vedere quello che Dio sta facendo Se noi non riusciamo a vedere Quello che Dio sta facendo Inciamperemo su noi stessi Cosa significa inciampi su te stesso? Quando tu sei sempre Quando tu inciampi sempre su te stesso Quando sei focalizzato sempre su te stesso Quando sei sempre sul mio ego Su il mio riconoscimento Su quello che devo io fare Quello che Dio mi ha chiamato Invece di cosa Dio ci ha chiamato a fare Quando tu sei inciampi sempre sul tu Io, 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 io Io perdi di vista quello che sta facendo Dio Dio non ci ha chiamato a lavorare in solitudine Dio non ci ha chiamati a lavorare da soli Infatti c'è un detto africano che dice Da soli si va veloce Insieme si va lontani Insieme si va lontani Solo così possiamo Possiamo vedere realizzata la visione Che noi crediamo Dio abbia dato ai nostri pastori Per questa nazione Credetemi fratelli Non ragioniamo Smettiamola di ragionare Lo so che forse può essere un parlare troppo grande per alcuni Non ragioniamo solo per questa sala L'impatto che Dio sta avendo in Italia Che è qui presto sta avendo in Italia Per grazia di Dio È qualcosa che non Forse ancora non l'abbiamo Riuscito a visualizzare Capire Ma Dio non ha un piano solo per questa Questo campus Non solo per il campus di Fiumicino Chissà Dio alla fine di quest'anno cosa farà Chissà alla fine di quest'anno dove Dio ti manderà Ma Ho detto che non sarebbe stato facile Ci sono tre tipi di persone Diciamo insieme tre tipi Tre tipi diversi di persone che Si approcciano alla visione Ne volete conoscere? Il primo tipo Cioè ci sono quelli che abbracciano la visione abbastanza Fin quando ne possono beneficiare Sono quelle persone che beneficiano Sono come quelle persone che beneficiano Del loro ristorante preferito Della loro palestra più conveniente Più vicino a loro Questo tipo di persone vengono in chiesa Perché gli piace Sai sono come quelli che Sui social Facciamo lezioni di marketing Mi piace Like Sapete che oggi c'è Vi svelo una cosa Quanti single ci sono qua? Ok Sapete che c'è una tecnica che oggi corre tra i ragazzi? Si chiama il like tattico Ci sono quelle persone che praticamente scorrono le foto E mettono like a tutti Dice una di loro Deve leggere che ho messo like E mi contatterò Questa è una parentesi Public relationship E sono quelle persone che Mi piace quello che fai Sei gaia Bello, bello Però il loro impegno Resta Ai limiti Ai confini Ai bordi Bello quello che fate Ti piace questa chiesa? Diciamo che è quella più vicina a casa mia Quindi mi piace Ma faccio piace E queste persone hanno una mentalità di consumismo Cosa può darmi la chiesa? Cosa posso prendere dalla chiesa? Che fa bene a me? Queste persone Per queste persone Il loro Loro stessi È la cosa più importante che c'è È facile essere questo tipo di persone È semplice È conveniente E ti fa sentire bene Perché Io vado in chiesa Like Hai messo un like ad un post Ti è cambiata vita Yeah Poi c'è il secondo tipo di persone Sono quelle persone Che abbracciano la visione abbastanza Fin quando Non gli costa tanto Fin quando gli conviene Sono quelle persone Che passano da una cultura di consumismo Cioè A primo livello A Iniziare a contribuire nella chiesa Sai Sui social Mo lascio un commento Tanto non c'ho niente Ho messo un commento Mi è piaciuto Non mi è piaciuto Do il mio contributo Esprimo il mio parere Sono pronti a contribuire nella chiesa Però Fin quando Non gli costa troppo Fin quando Non gli prende troppo O fin quando Non interferisce Con le proprie priorità Hello Siete ancora con me? Di là la persona Fai la persona Accanto a te così Ti sta parlando Il Signore ti sta parlando oggi Poi ci sono E' l'ultimo gruppo di persone Sono quelli che abbracciano la visione Donando la propria vita per essa Sono quelli che non hanno paura Di condividere i contenuti Solo la propria bacheca Sui propri social Perché quando tu condividi Un contenuto sulla tua bacheca Ci stai mettendo la faccia Stai dicendo Io credo a quella cosa Avete visto che a volte ci sono Che cose strane Girano cose strane sui social Vorresti commentare Ma non commenti O vorresti pure Non condividere O vorresti condividere Ma non lo fai Perché se va a finire Sulla tua bacheca E gli altri cosa diranno Le persone che si donano Completamente alla Chiesa Ad una visione Sono persone che non hanno problema Di condividere Non hanno problema Di prendere quello che stanno visualizzando Quello che stanno imparando qui E portarlo fuori E condividere con le altre persone Queste sono quelle persone Che afferrano e realizzano la visione Riconoscono che la loro vita Non è in effetti loro Riconoscono che la loro vita Non è in effetti La loro vita Loro esistono Per una causa Più grande di loro stessi E si trovano gioia Nel dare Sacrificarsi Servendo Sono pronti a fare Qualsiasi Cosa Gesù li chiama a fare Sono coloro Che non vanno in Chiesa Sono coloro che sono Chiesa E credo che per Avere un impatto Nella nostra nazione Nel nostro oicos In tutto quello che ci circonda Abbiamo bisogno di Di arrivare a questo punto Di Di persona A questa tipologia di Di credente A questa tipologia di Di membro di una Chiesa Che è disposto a dare Darsi Completamente Perché sa che la sua Che la sua vita Che la propria vita In realtà non è sua La Bibbia dice che quando Noi abbiamo accettato Gesù Siamo anche morti In Gesù Siamo stati Crocifissi con Gesù Quindi la tua vita Non appartiene più a te Dio non ti ha salvato Solo perché sei bello Carino Certo perché stavamo Andando a tutti All'inferno Ma Dio ci ha salvato Mi ha salvato Ti ha salvato Per uno scopo Come dice il pastore Francesco Dio ci salva due volte Dall'inferno E dalla sedia Dall'inferno E dalla sedia E Oggi Purtroppo Sembra che il messaggio Del Vangelo Il messaggio Di servire il Signore Della chiamata È diventato un messaggio Così comodo Perché c'è la modernità E va bene tutto Ma Dio ha bisogno Di persone Lui per attuare Quello che vuole fare Nella nostra nazione Nella nostra città Nella nostra famiglia Nel nostro parentato Lui ha bisogno Di uomini E donne Che siano disposti A capire Che la loro vita Non è più loro Che non hanno paura E vergogna Di condividere Quello che imparano Che non hanno paura E vergogna Di essere presi in giro Di condividere Il pensiero I principi di Dio Oggi abbiamo anche paura Di rispondere Sui principi di Dio Una chiesa Che ha una visione Ad effetto È formata Da persone Che sono disposte A pagare Questo tipo Di prezzo Sapete Dio Ha un piano Dio aveva un piano Per l'umanità Ma senza Gesù Non l'avrebbe potuto fare Giusto? E Dio Forse avrebbe scelto Qualcun altro Ma senza Gesù Che diceva Ecco signore Eccomi papà Vado io Non avrebbe potuto fare Quello che ha fatto Allo stesso modo Gesù Dio ha una visione Ma senza dimettere Non può farlo Noi preghiamo Che Dio ci dà visione Preghiamo Che Dio ci dà strategie Preghiamo Che Dio ci dà cose Preghiamo 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 Ma tutto quello Che sta aspettando Per iniziare È E lo Sto qua Fallo signore Ma con me Qualsiasi cosa vuoi fare Io ci sono signore Una visione va Numero uno Conosciuta Dobbiamo conoscere Dove stiamo andando Immaginate se qualcuno Vi viene a prendere a casa Dice vieni Ti porto da una parte Ora a meno che Non è una sorpresa Non è tenuta a dirtelo Dice allora andiamo a fare Sto viaggio Tu entri in macchina Dice sì ma dove stiamo andando Non ti preoccupare Stiamo andando Sì ma voglio sapere Dove stiamo andando Non ti preoccupare Stai sereno Sto sereno Ma se me lo dici Sto più sereno Quindi una visione Va conosciuta Dobbiamo sapere Dobbiamo conoscere Qual è la nostra visione Dobbiamo Numero due Comprendere Una visione va Compresa Perché dobbiamo Comprendere Come ci stiamo andando Diciamo ok Andiamo da Roma A Milano Ok Questo l'ho capito Ma come ci andiamo Ci andiamo in modi diversi In tempi diversi Con mezzi diversi E il terzo numero E il terzo punto È una visione Va come abbiamo detto Condivisa Conosciuta Compresa e condivisa Dobbiamo essere disposti A condividerla Agli altri Dobbiamo essere disposti Una volta che sei entrato In una macchina È quello di ciò Che andiamo a Milano Come ci andiamo Per autostrada Bene Devi essere disposto A condividere il viaggio Con quella persona Puoi decidere Di scendere Ma nel tuo cuore Se vuoi arrivare A Milano Devi Sposare Devi scegliere Di condividere Quel viaggio Con quella persona Amen Abbiamo bisogno Di rispondere Alla chiamata di Dio E servirlo Abbiamo Abbiamo bisogno Tu hai bisogno Di rispondere Alla chiamata di Dio Sapete molte volte Ci sono tante persone Che Alcuni vivono Un senso di Non so qual è La direzione della mia vita Non so cosa devo fare Non so Qual è il piano Cosa sarà il mio domani Sapete questo In modo inconscio È un Grido È un grido Al piano di Dio È un grido Ecco perché a volte Viviamo delle insoddisfazioni Quando noi siamo Siamo frustrati Una delle cose che facciamo È correre lontano Da Dio Lontano Dalla chiesa Lontano Da tutto quello che Rappresenta Dio per noi Ma in realtà Noi non possiamo Fare a meno Di questo Perché io e te Siamo stati Creati Per servire il Signore E nell'attimo Che tu hai detto Sì a Gesù La tua chiamata È iniziata La tua chiamata È iniziata Dio Non può farlo Senza di te Dio non può farlo Senza di te Guardate questo verso Straordinario In Marco 10 45 Dice Poiché Anche il figlio Dell'uomo Non è venuto Per essere servito Ma per servire E dare la propria Dare la sua vita Come prezzo di riscatto Per molto Gesù Era il figlio di Dio No? È venuto sulla terra Sarebbe potuto venire Per essere servito Era il figlio di Dio In un altro passaggio Gesù dice Quando In Luca 22 Non c'è Sullo schermo In Luca 24 Gesù Muore Gesù Gesù risuscita Scusatemi Luca 23 Gesù viene Crocifisso In Luca 22 I discepoli Stanno ancora discutendo Chi era il maggiore Nel regno dei cieli Dopo tre anni e mezzo Tre anni e mezzo Passato con Gesù Cioè dopo due capitoli Gesù È risorto Ma Dice qual è il maggiore Qual è il maggiore E Gesù gli dice Se una persona va Si siede a tavola In una locanda Qual è il più grande Quello che si siede a tavola O è il cameriere O il servitore No? Se noi andiamo nel ristorante Chiedi al proprietario del ristorante Chi è la persona più importante Nel ristorante No? Si dice il cliente ha sempre ragione Perché quando arriva il cliente Poi devi servire Devi stare attento Giusto? Gesù che fa? Viene e capovolge tutto Dice colui che serve È il maggiore Gesù viene e capovolge tutto Dice non è chi si siede al tavolo È chi serve Che è il maggiore Nel regno dei cieli E per portare avanti una visione Ecco perché Stiamo parlando di visione e servizio Perché vanno insieme Per portare avanti una visione C'è bisogno di persone Come diceva Marco Che sono disposte A dare la propria vita Come prezzo di riscalto Per molti A dare la propria vita Per servire Questa generazione Hello? Ho detto che non va carezzavo Perché quando si parla di servizio E servire in una visione In una chiesa Lo so Perché va a toccare sempre Il tuo ego interiore Ognuno di noi Abbiamo il nostro ego Abbiamo le nostre Priorità Abbiamo i nostri piani La nostra agenda Le nostre soddisfazioni Tutte le abbiamo Quando Metti mano All'arato Quando scegli di fare Sul serio Quando scegli di fare Un passo avanti Nel servizio a Dio Quelle sono le prime aree Che Dio viene a smantellare Infatti dico sempre Che il servizio è Uno dei modi Che stai permettendo a Dio Di mettere mano Alla tua vita Molto spesso preghiamo Signore cambiami Signore voglio essere come te E Dio ti mette a servire Dio ti chiama Se ti fa sentire Questo desiderio a servire E poi inizia a lavorare Nel tuo carattere Dice perché signore Che tu mi hai chiesto cambia E io per cambiarti Devo Devo toccarti In quei punti In quelle aree Dove ancora C'è molto Di te Siete ancora con me? Grazie Ancora Efesini 4.16 Guardate cosa dici Da lui Cioè da Gesù Tutto il corpo Ben collegato E connesso Mediante l'aiuto Fornito da ogni giuntura Tra il suo Sviluppo Quindi cresce In modo da edificare Se stesso Nell'amore Nella misura del vigore Di ogni singola parte Vedete L'Apostolo Paolo Qua scrive L'importanza di Essere parte Di un corpo Se Dio ti sta chiamando A essere mano E tu ti rifiuti Immaginate quel corpo Cosa sarà Oppure ti chiama A essere testa Immaginate un corpo Senza testa Sarà un mostro Dio ti Ci chiama A essere parte Attiva Di quel corpo Dice ognuno Nel suo posto Con le sue giunture Un'altra versione Dice con la propria Capacità C'è una capacità Che una persona Può portare E una capacità Che un'altra Persona può portare Ma non significa Che uno E' meno dell'altro Non significa Che il dito Che il mignolo Della mano E' meno importante Dell'orecchio Sinistro O viceversa Ognuno Ricoprendo Il proprio ruolo Ma per La crescita Del corpo Di Cristo Eccoci qui Ritrovati Nello studio Della nostra chiesa Equippers Spero che questo video Che stai seguendo Sta benedicendo La tua vita Anzi ne sono sicuro La parola di Dio Fa sempre La differenza Nella nostra vita E se ormai Questo è il tuo Metodo Per ricevere parola Perché forse Non hai una chiesa O forse sei Lontano Dalla nostra chiesa Ti voglio dire Se Equippers E' diventata La tua famiglia Ti incoraggio A fare qualche passo In più Per farti conoscere Da noi Perché no Visita il sito Equippers.it Dove potrai Connetterti Con il nostro Group Online Su Zoom Non vedo l'ora Di conoscerti Non vediamo l'ora Di conoscerti Inoltre abbiamo Un network Incredibile Di amici Di chiese Di gruppi in casa In tutta Italia Lo trovi sempre Sul nostro sito Oggi voglio Prendere qualche minuto Per parlarti Di come anche tu Puoi contribuire Per l'avanzamento Dell'opera di Dio Che stiamo portando avanti Sotto questa bandiera Equippers Che altro non è Che equipaggiare le persone Per una vita vittoriosa Attraverso la fede In Cristo e Gesù Oggi voglio parlarti Del potere Del seme Intanto il verso Che voglio leggere Si trova in Secondo Corinti 9 10 E dice così Che colui che fornisce Al seminatore La semenza E il pane Da mangiare Due cose Al seminatore La semenza E il pane Da mangiare Fornirà E moltiplicherà La semenza La semenza Vostra E accrescerà I frutti Della vostra Giustizia Molte volte Noi non ci rendiamo conto Che tutto quello Che Dio manda Nella nostra vita Verso la nostra vita Non è Tutto pane Da mangiare Non è solo Per il nostro Nutrimento Ogni volta che io Personalmente ricevo Un qualsiasi cosa Un'entrata Uno stipendio Un'offerta Qualunque cosa io ricevo Io chiedo sempre al Signore Che cos'è pane E che cos'è seme Perché qui dice la scrittura Che Dio Moltiplicherà La semenza Ora Dalla semenza Noi abbiamo Anche il pane Possiamo mangiare Ma la semenza Non è solo per il pane Ciò che Dio ci dà Non è solo per il mangiare Alcune cose sono per noi Altre cose sono per il campo di Dio Il terreno Non può rimanere Inerte Davanti al potere del seme Non c'è un terreno Che può dire al seme Io non rispondo a te Non c'è un terreno Che può dire al seme Tu non mi fai paura Non c'è un terreno Che può dire al seme Tu non mi cambi Assolutamente no Il terreno Deve rispondere Al potere del seme Solo che quando parliamo Anche delle nostre offerte Del nostro dare E lo vediamo in forma di seme Ci dobbiamo rendere conto Che il seme Nella nostra tasca È inerte Ma il seme Nel terreno E solo nel terreno È potente E troppe volte Non vediamo certe cose Che Dio ha in mente per noi Perché tratteniamo Quello che Dio ci ha dato Come seme Confondendolo come pane E allora ti voglio incoraggiare Se Equippers Sta benedicendo la tua vita E ci vuoi aiutare A portare avanti Sempre di più Questo progetto Attraverso televisione Social media Radio Distribuzione di libri gratuiti Come tu Forse ben sai Corsi di formazione Biblica Gratuiti Ti incoraggio A visitare Il mio sito Se ancora Non lo hai Fatto I miei profili Instagram FrancescoBasili Per ricevere Tutto quello Che mettiamo a disposizione Gratuitamente Ma lo possiamo fare Perché qualcuno Crede nel potere Del seme E ti incoraggio Se tu vuoi Puoi aiutarci Ad andare avanti Attraverso il sito Equippers.it Puoi diventare Un donatore Regolare O con una semplice donazione Anche piccola Una Tantum Ci aiuterai Ti lascio A quello che è Il messaggio Che stavi ascoltando Dio Ti Benedica Dio ha bisogno Di Di persone Per compiere La sua opera Dio ha bisogno Di persone Persone con queste Tre caratteristiche Numero uno Dio ha bisogno Di persone Disponibili Primo Samuele 3 4 dice Il Signore chiamò Samuele Il quale rispose Eccomi A volte Dio ci chiama Dice Eccomi Signore Manda Lui Dio può solo usare Persone Disponibili Essere disponibili E Essere Attenti Essere Interessati All'indicazione Di qualcuno Dio non può fare Qualcosa con te Se tu non ti rendi Disponibile Se tu non rispondi Come rispose Samuele Eccomi Signore Sono qui In questi giorni Abbiamo pregato Abbiamo fatto la prima Settimana di Scuola di preghiera A Fiumicino Vi incoraggio per chi può A seconda dei vostri impegni Si può seguire anche Online E abbiamo Abbiamo pregato per questo Abbiamo pregato per tante cose Che Dio ci apri porte Per questo anno Tantissime cose Se volete scoprirle Venite E A un certo punto Il pastore Francesco Ci ha guidato Nella preghiera A dire Signore Manda noi Rendici pronti Per quello che tu vuoi fare In Italia Perché Dio può fare Tutto in Italia Ma Dio ha bisogno Di uomini E donne Che siano disponibili A perdere la propria vita Per il messaggio del Vangelo Dio non può usare Operai Saltuari Sapete ci sono quelli là Che un giorno vanno Del lavoro E dicono Dio non Dio non può usare Operai saltuari Dio ha bisogno Di persone Che siano disposte Disponibili A mettere La propria vita Sull'altare Eccomi Signore Eccomi Signore In questi giorni E questa è la mia preghiera Che sto facendo Perché mi sono ricordato Quando Sono ancora ragazzo Ero più ragazzo E partecipavamo a conferenze A volte C'era il pastore Francesco E veniva Era ancora singolo Quando l'ho conosciuto io E lui Predicava Ti incoraggiava A servire il Signore A fare passi di fede E io ricordo Che ero Che ero ragazzino Mettevo Mettevo una canzone In particolare Peccato Mi sono dimenticato Di portarla Questa canzone Era intitolata Appassionato E spagnolo E il coro diceva Io rinuncio Ai miei sogni Rinuncio Ai miei piani Per te Signore Qualcuno potrebbe dire Perché non devi avere dei sogni Una cosa è avere i tuoi sogni E una cosa è avere i suoi sogni E in questi giorni Sono tornato indietro E in quel periodo Tutto quello che io volevo È servire il Signore Volevo solo Servire il Signore La mia vita Non aveva Non c'ho grandi cose Da testimoniare Nel senso che Grazie a Dio Non ho avuto Cattive esperienze Per metterla così Ma Una cosa Io avevo paura Nella vita Siccome vivevo Una solitudine Che Vengo da un quartiere Particolare Ero sempre chiuso a casa Non frequentavo mai nessuno Io avevo sempre Ho sempre avuto paura Di Di non realizzarmi Quello che vogliono Tutti i giovani oggi No? Avere una moglie Un marito Una famiglia Avere un lavoro E io Quando io ho conosciuto Gesù Per me è stata All'ancora In mezzo A un oceano Non c'avevo nessuno Eppure la mia famiglia Mi ha sempre amato Non mi è mai mancato niente Ma Ecco quello che dicevo L'essere umano Nasce già Con un bisogno A forma di Dio Con un vuoto interiore A forma di Dio E quando io ho conosciuto Il Signore Quello che volevo fare Dicevo Signore io Una cosa voglio fare Signore Io voglio servirti Voglio servirti Signore Voglio servirti Poi lo inizi a fare Dio ti dà grazie A modo di cresci E a volte Uno degli errori È che dimentichiamo Di restare Disponibili Dio sta cercando persone Disponibili Che dicono Eccomi Signore Io non c'ho nulla Non so fare nulla Non so andare a scuola Non so andare all'università Usati di me Signore Dio non violenterà mai Il tuo pensiero Rispetterà sempre Il tuo pensiero Ma lui ha bisogno Di un semplice Ecco Usati di me Signore Secondo tipo di persone Se potete aiutarmi Con l'audio Per favore Numero uno È disponibile Numero due Persone disposte Può sembrare la stessa cosa Ma non lo è Tu puoi essere disponibile Ad ascoltarmi Ma non Anche meno Puoi essere disponibile Ad ascoltarmi Ma puoi essere Non disposto A fare quello Che ti chiedo Di fare Puoi essere disponibile Attento Ad ascoltare Una richiesta Pure Samuele Quando Gesù L'ha chiamato Quando Dio l'ha chiamato Lui rispose Eccomi Signore E poi gli disse Vai a dire Al profeta Eli Che i suoi figli Lui avrebbe potuto dire Non ci prezzo proprio Anche no Dice Quello è il profeta Io gli vado a dire Invece lui è stato Disponibile Quando Dio l'ha chiamato Ma è anche stato Disposto a fare Quello che Dio gli aveva chiamato A fare Guardate Matteo 21 Dal verso 28 al 31 Dice Che ve ne pare Un uomo aveva due figli Avvicinatosi al primo Disse Figliolo Va a lavorare Nella vigna oggi Ed egli rispose Non ne ho voglia Ma poi Ventitosi Vi andò Avvicinatosi all'altro Disse la stessa cosa Ed egli rispose Vado Signore Ma poi non vi andò Quale di due Fece la volontà del padre Ed essi gli sposere Il primo Tu puoi essere Disponibile Alla chiamata di Dio Dice Sì E' Gagliarda Sì no Voglio servir il Signore Voglio viaggiare Come fa il pastore Sì E sì Gli è Sono pronto E poi dice Ok Il Signore viene E dice Adesso sei Disposto a lasciare Tutte le certezze Che hai Oppure forse Ti dirà Sei disposto a partire E andare a fare Una scuola biblica All'estero Oppure Sei disposto A vendere Tutto quello che hai Per pagarti Un anno Che ne so Da qualche parte Per formarti Tanti possiamo essere Disponibili Ma non sempre Siamo disposti A pagare C'è una grande differenza Nel tuo cuore Quanto sei Che prezzo Sei disposto A pagare Preghiamo Per le nostre case Preghiamo Per le nostre famiglie Per i nostri amici Ma cosa Sei disposto A pagare Quanto Sei disposto A morire A te stesso Vogliamo Che Dio Rivessi unzione Sulla nostra vita Quanto Sei disposto A salire Su quell'altare Vogliamo Più potenza Quanto Sei disposto A morire A te stesso Spero Che mi vogliate Sempre bene Alla fine Di questo messaggio Persone disponibili Persone disposte E l'ultimo punto Persone dedicate 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 Guardate Luca 9 In 62 Ma Gesù gli disse Nessuno Che abbia messo Mano all'aratro Volga poi Lo sguardo indietro E' adatto Per il regno Di Dio Persone Dedicate Quando tu sei Dedicato ad una cosa Tu la pensi Notte e giorno Quando Gesù E lo leggiamo Anche Un attimo Giovanni 4 34 Dice che Gesù Disse loro Il mio cibo I discepoli Gli avevano portato Del cibo Dice il mio cibo E fare la volontà Di colui Che mi ha mandato E compiere L'opera Sua Praticamente Gesù aveva detto Che la sua dieta Era fare La volontà Del Signore Loro Gli avevano portato Il cibo Giustamente E il cibo È qualcosa Che tu Almeno io Lo prendo Tutti i giorni Mattina Merenda Pranzo Merenda pomeridiana Cena Spuntini After hour Il cibo Non dimentichi Di mangiare La prima cosa Che ti fa il cibo Ti dai segnali Mi fa male lo stomaco C'ho fame Gesù dice Il mio cibo Quello che Ogni giorno La cosa che Ogni giorno Io penso È fare La volontà Del padre mio Gesù Ogni giorno Camminava Solo per Questo Fare La volontà Del padre suo Portare avanti La visione Che il papà Gli aveva dato Gesù stesso Ha dovuto Rendersi Disponibile A piano di Dio Fu disposto A pagare Il prezzo Della croce E si dedicò Completamente Solo per quello Vogliamo Alzarci in piedi So che Questi messaggi Sono quelli che Entrano in silenzio Piano piano E Ti mettono un po' A riflettere Ma abbiamo bisogno Questa mattina Io per primo Abbiamo bisogno Di fare Una scelta seria Abbiamo bisogno Di forse Rinnovare La nostra Dedicazione All'opera Del Signore Settembre Come dicevamo Nuovo inizio Quale inizio migliore Per dire Signore Io questo anno Voglio Dedicarmi di più Voglio rispondere Alla tua chiamata Voglio servire Nella chiesa Dove tu mi hai messo Voglio Portare avanti Quello che tu Mi hai affidato E forse abbiamo bisogno Anche di pentirci Per aver trascurato Per aver trascurato Per aver Reso leggero Dio sta chiamando Persone che sono Disposte A pagare Un prezzo Disposte A pagare Un prezzo Non leggero Se le ragazze Possono anche salire Vogliamo pregare Fra qualche istante Alleluia Grazie Signore Grazie Spirito Santo Grazie Spirito Santo Sei nel posto Dove sei Credi che Dio Ti abbia parlato Per favore Mentre tutti Abbiamo gli occhi chiusi Non serve Far vedere la mano A me Io non posso fare niente E' tra te E' Dio Questa mattina Se tu Se tu hai sentito Come se Dio Stesse parlando Stesse dicendo Queste cose Direttamente A te Nel tuo interiore Se senti Questa chiamata Da parte di Dio Se senti Di volerti impegnare Di più Per l'opera di Dio Per la visione In questo momento E' tra te E' tra te e lui Alza la tua mano Nessuno Guardi nessuno Nessun altro Per favore Non giriamoci intorno E' tra te e Dio Possiamo pregare In questo momento Come pregò Samuele Eccomi Signore Eccomi Signore Eccomi Signore Manda a me Signore Ecco il mio cuore Signore Cambialo Per le persone Per amare le persone Come tu le ami Signore Ecco la mia vita Signore Usala Usala Signore Per raggiungere Quante più persone Possibili Signore Nel nome di Gesù Signore Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Father Thank you Jesus Thank you Father Alleluia Alleluia Thank you Jesus Alleluia Grazie Signore Grazie Signore Grazie Signore Non c'è cosa più bella Signore Non c'è onore più alto Non c'è altro privilegio Signore Che donare la nostra vita Per te Signore E noi questa mattina Come Chiesa Signore Vogliamo Donare la nostra vita Signore Vogliamo Dirti ancora una volta Sì Signore Sì Signore Manda noi Sì Signore Usati di noi In questa città Signore E dovunque Tu ci manderai Dovunque Tu ci farai Allargare Signore Usati delle nostre vite Usati delle nostre Mani Signore Usati delle nostre voci Dei nostri piedi Dei nostri talenti Signore Noi siamo qui Siete con me Noi siamo qui per te Signore Noi siamo qui per fare la differenza In questa nazione Signore Noi siamo qui per raggiungere Quelle persone perse Signore Quelle persone che stanno gridando a te Signore Quelle persone che hanno bisogno di te Signore Ancora non riescono a trovarti Signore Come Chiesa Vogliamo dire Eccoci Signore Vogliamo dedicarci a te Signore Vogliamo essere disponibili Vogliamo essere disposti a pagare il prezzo Signore Manda noi 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 Signore Alleluia Alleluia Thank you Jesus Thank you Jesus Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Sento come se il Signore Stisse mettendo come Un peso di responsabilità Alcuni stanno sentendo proprio Come sulle spalle Una responsabilità Alleluia Thank you Jesus Alleluia Signore Cambia i nostri cuori Signore Ti chiediamo perdono Signore Se abbiamo usato Leggerezza Signore Se siamo stati Troppo per noi stessi Signore Per quello che Tu vuoi fare per noi Signore Noi oggi scegliamo E vogliamo dirti Signore Noi siamo pronti a fare Per te Signore Siamo pronti ad andare Per te Signore Scomoda la nostra vita Per il Vangelo Signore Scomoda la nostra vita Per il Vangelo Signore Siamo bravi a costruirci le nostre comodità Signore Scomoda la nostra vita Signore Che il nostro cuore Possa abbattere Signore Possa abbattere Signore Con il desiderio di poterti servire Signore 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 Grazie a tutti